ciao ragazzi io sono Emanuele bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e il videomaking oggi sono qui con questo fantastico maglione che ho acquistato in perù che dà un po di colore all'inquadratura per comunicarvi una cosa importante da oggi questo mio canale dedicato alla fotografia e videomaking subirà un cambiamento importante perché sono arrivato a fare questo cambiamento perché mi sono basato su quelli che sono i video più visti all'interno del mio canale ho notato che i video più visti sono quelli inerenti la storia del cinema la storia della fotografia tutto questo mi ha portato a prendere questa decisione influenzata anche da un'altra delle mie grandi passioni oltre alla fotografia il videomaking e al cinema lo sapete che ho anche l'altro canale dedicato al cinema e serie tv fruit the looking glass però un'altra mia grande passione è la storia ho notato che i video sulla storia del cinema e della fotografia sono andati molto bene quindi cosa inizierò a pubblicare qua su questo canale innanzitutto non abbandonerò del tutto il campo della fotografia e dei videomaking perché comunque è il mio lavoro però mi sono anche reso conto che parlare di tecnicismi sensori lenti nonostante io lavori in questo campo è una cosa sulla quale fare dei video non mi porta entusiasmo ecco non riesco a esprimere me stesso al 100 per cento con quella tipologia di video per cui non voglio fare qualcosa che non porta entusiasmo a me perché poi non restituirei a voi la passione quindi non vi offrirei un video dei video dei contenuti sinceri ecco dei contenuti sinceri dai quali traspare la mia passione per cui continuerò a parlare un po di fotografia nei film ma soprattutto inizierò a trattare un po di argomenti storici di storia slegati completamente dalla fotografia e dal videomaking per esempio partirò prossimamente con la storia della prima guerra mondiale un riassunto della prima guerra mondiale sono è un anno e mezzo che penso di fare questa cosa alla fine mi sono deciso del resto ragazzi come sapete noi siamo in completo mutamento ora da qui a dieci anni chissà se io farò ancora questo lavoro qua magari farò tutt'altro per cui ho deciso di buttarmi in questa nuova esperienza per cui ragazzi questo è quanto se vorrete seguirmi in questa nuova avventura sarò ben felice di fare questo viaggio con voi e se invece deciderete di lasciarmi vi ringrazio comunque per tutti questi anni passati insieme per cui a me non resta altro come sempre di ringraziarvi della visione e darvi appuntamento ai prossimi video ciao a tutti